È stato identificato nella notte l'uomo di Camardama, residente a Paganica, precipitato ieri pomeriggio dal sentiero roccioso nei pressi del santuario della Madonna d'Appari a Paganica, è Gianni Carrozzi, di 44 anni. Un operaio, che era seduto su una panchina vicino al fiume, avrebbe raccontato di averlo visto cadere nel vuoto un volo di oltre 30 metri. Inizialmente non è stata resa nota l'identità, ma il fratello, già da ieri sera, aveva denunciato la scomparsa. Carrozzi è sposato e padre di due figli. La moglie, al momento della caduta, era all'estero e sta rientrando. L'autopsia chiarirà ogni dubbio sulla morte e ci sono le indagini svolte dagli inquirenti che mirano a far luce sull'intera vicenda. Carrozzi era molto conosciuto e stimato in città, allenatore dell'SD Gran Sasso Calcio, delle giovanili e anche delle giovanili del Moro Paganica. Addosso al momento della caduta non aveva nulla, né documenti né cellulare, soltanto la fede al dito come unico indizio per riconoscerlo. Non si pensa al gesto volontario, in quanto aveva anche abbigliamento ginnico, ma forse non adeguato a scalare quel sentiero. Ad ogni modo saranno le indagini a far luce su tutto. Si era parlato in un primo momento di un incidente, alcuni testimoni avrebbero anche detto che si era sporto per fare delle foto. Il cellulare comunque non gli è stato ritrovato addosso, possibile che sia anche caduto sotto le rocce. Grazie. Grazie.